Salve a tutti bentornati sul canale, oggi vi porto uno studio importantissimo che vi fa capire qual è l'approccio migliore per l'operatività di un trader con un'analisi Monte Carlo. Vi farò vedere un caso standard, un caso in cui si hanno pochi soldi e si è più propensi purtroppo al rischio o il caso in cui vediamo rischi e rendimenti dei fuffagurvi che vi fanno vedere stop cortissimi, operazioni super rendimenti, come si fa a ovviamente smontare questo tipo di operatività e poi vi facciamo vedere il caso ideale di operatività. Quindi spolliciate tanto, ne vogliamo veramente tanti di like per questo video e andiamo a studiare. Salve a tutti bentornati sul canale e il primissimo video che abbiamo fatto qui sul nostro canale parla proprio di questo studio, del rischio rendimento del money management. Vi invitiamo ad andarla a vedere anche se la qualità farà schifo sul canale, ma oggi andiamo a approfondire quello studio che è proprio lì l'obiettivo che ci siamo prefissati di portare qui sul nostro canale, cioè l'operatività migliore che deve assumere un trader profittevole. Allora vi faccio vedere il caso che vi abbiamo mostrato nel nostro primissimo video, cioè si partiva con un capitale di 10k, questa piattaforma ovviamente ve la linko in descrizione, con una profittabilità del 50%, quindi poniamo il caso che io sia scarsetto, quindi il 50% prendo la direzione giusta, il 50%, prendo la direzione sbagliata, rischio rendimento che conoscete benissimo, 1.4 dal mio primissimo video, 300 operazioni per simulare esempio un anno di trade, anche se sono sicuramente meno, dipende che tipo di trader siete, e vediamo 50 equity, che sono queste linee qui, che ci diranno quanto effettivamente stiamo andando bene o male. 1% di rischio, quindi 100€ per ogni operazione, quindi questa è l'operatività standard che vi abbiamo sempre fatto vedere sul nostro canale, che ha ovviamente una profittabilità ottima perché l'83% delle volte andiamo in profitto mediamente, quindi è un'operatività ottima, drawdown un po' alto ovviamente, e il medio è intorno all'11%, io preferisco stare al di sotto del 9-10, ora vi faccio vedere invece i casi che vi potreste ritrovare voi e come dovreste, non dovreste operare ovviamente, 500€ facciamo finta che sono all'inizio, non ho grandi capacità e però sono un po' più tendente al rischio perché se ho 500€ e voglio guadagnare andrò a rischiare di più, questo è il ragionamento che fanno in tanti, vediamo a che cosa vi porta questo ragionamento, facciamo finta che usate una monetina per entrare a mercato, quindi o testa o croce, poniamo il caso che volete guadagnare il doppio quanto entrate, quindi rischiate 100 entrate, guadagnate 200, purtroppo questo fattore qua, nessuno va a perdere solo 5€, ne sono quasi certo, conosco persone che rischiano anche il 100%, però voglio essere ottimista, vi metto un 20%, cosa succede alla vostra operatività se operate così 300 operazioni, ecco il risultato, come vedete il 98% delle volte andate in drawdown, anzi l'86% mediamente, ma il vostro drawdown massimo sarà quasi sempre raggiunto, solo casi sporadici che si chiamano casi fortunati ovviamente, ma un trader purtroppo non può basarsi sulla fortuna su questi 4 casi in cui l'equity è salita a cannone, quindi purtroppo dopo 300 operazioni la maggior parte di voi che fa un'operatività rischiosa, rischiando anche solo il 20% di 500, andrà a perdere tutto il capitale, quindi questa operatività ragazzi dovete scordarla. Poi parliamo invece dell'operatività dei fuffa 1, quelle che amano tanto mettere stop super corti, rendimenti 10, qua c'è scritto rapporto rischio rendimento significa che rischiamo 1, guadagniamo 10, quindi andiamo a vedere come si fa a smontare questo tipo di operatività e sul nostro canale abbiamo visto, vi abbiamo regalato qualche occasione ultimamente, esempio XEM, eravamo arrivati a questo daily, vi avevo detto vediamo chi è bravo ad approcciare a questa operatività, che cosa è successo a XEM, vi faccio vedere l'operatività di un guru, quale sarebbe stata, l'ingresso potenzialmente era qua, stop sopra questi massimi, ok, rendimento fino a qua sotto, questo era un esempio di operatività, ok, che cosa è successo a questa operatività qua, vediamolo subito, ovviamente stop loss subito alla prima candela, ok, quindi questa operatività anzi, ho messo stop troppo largo a mio avviso per essere un fuffa guru, stop loss molto corti significa rendimenti, significa la potenzialità di un ring rate, quindi di un guadagno si abbassa drasticamente, proviamo un 15% per l'essere ottimista e un 5 di guadagno rispetto ad 1, adesso si toglieranno tutte queste numeri qua, rischio, proviamo ad essere ottimisti che rischia soltanto l'1% ma avendo un capitale di 10k, come sarebbe andata l'operatività di un trader che ha questo tipo di win rate ovviamente, perché con questo tipo di rendimento non si può avere oltre, avrebbe avuto un equity sempre discendente, quindi tanto più si cerca di guadagnare, tanto più si abbassa il fattore di profittabilità, come avete visto questo è solo un caso, ce sono centinaia che potete vedere sul nostro canale ovviamente, e quindi l'operatività di un trader che cerca i massimi rendimenti è quella di andare a morire. Come avrebbe approcciato un trader professionista? Ve lo faccio vedere. Esempio, io ho approcciato mettendo stop sopra al daily, rischio e rendimento sarei andato a puntare o ai minimi o a questo supporto qui che era più che sufficiente, 1 a 4, anzi 1 a 5 quasi, che è il livello standard che vi ho fatto vedere al primo esempio, 1.4. Poi io avrei fatto dei parziali, perché io non entro al mercato senza prendere mai dei parziali, perché un terzo l'avrei preso qui, un terzo l'avrei preso qui. Essendo io un trader molto conservativo, riesco ad avere una profittabilità dell'86%, avete questo video a dimostrazione con le mie equiti, potete andarla a visionare e sapete perché ho questo tipo di profittabilità. E ora vi faccio vedere come sarebbe andato a finire con quel tipo di profittabilità, con un rischio e rendimento che non è 1.4 come è scritto qui, perché questa è tutta l'operazione. Io prendo dei parziali, quindi punto a prendere un terzo dell'operazione. Andiamo a vedere che cosa sarebbe successo alla mia equiti. Questa è l'equiti di una persona che è molto conservativa, che non punta al guadagno, ma punta a proteggere il proprio stop loss. Questa è l'operatività che avrebbe dovuto assumere una persona che vuole avere un'equiti che cresce in questo modo, con una profittabilità, cercando di approfondire più possibile lo studio per arrivare a questo tipo di profittabilità, ma non si può ottenere questa profittabilità se non si conosce ovviamente il money management, risk reward, position sizing, se non si conosce invece le aree liquide, se non conosciamo i volumi, se non conosciamo tutto ciò che ci permette di andare a proteggere il nostro stop loss, non si può ottenere ovviamente questa profittabilità. Per una persona media, anche se avesse un 50% come vi ho fatto vedere prima e andasse a prendere un 1.4, avete l'esempio standard che vi può comunque aiutare. Questo non vuol dire che non dovete studiare e buttare una monetina al 50%, questo significa che se puntate al guadagno otterrete sicuramente solo perdite, se puntate a rischiare di più quando avete pochi soldi andrete solo a perdere. I casi ideali sono lo studio per ottenere una profittabilità maggiore, il caso standard, ma bisogna avere ovviamente le competenze per riconoscere i livelli chiave. Spero che questo studio vi sia d'aiuto ragazzi, spolliciate tanto perché volevo assolutamente portarvi questo studio che era importantissimo per sensibilizzarvi e non farvi credere che queste operatività siano fattibili, non farvi credere che con pochi soldi si possa diventare ricchi è solo una questione di fortuna, ma noi trader non possiamo basare la nostra operatività sulla fortuna. Grazie a tutti, ci vediamo nelle live lunedì, mercoledì e venerdì alle 15.15, spolliciate e buona giornata a tutti. Ciao! Grazie a tutti!